Una cupola che gestisce la città di Carrara. Il consigliere della destra Gianni Musetti parla senza mezzi termini e punta il dito contro la TCT, l'azienda che gestisce l'organizzazione di numerosi eventi nel territorio comunale, a suo avviso strettamente collegata all'amministrazione. Il direttore generale del comune di Carrara, che è Marco Tonelli, ha un'azienda che si chiama TCT, di cui sono soci anche Maria Baruzzo e Cesare Tazzini. Rispettivamente uno è amministratore delegato della Progetto Carrara, uno è project manager della Carrara Fiere per Marmotech e appunto Tonelli è direttore generale dello stesso comune. Nel contempo anche un'altra società, la Porto Marina di Carrara SRL, che era stata costituita circa 4 anni fa, a cavallo fra il 2006 e il 2007, per cercare degli interessati alla costituzione del porticolo turistico del nostro litorale. I due soci di questa azienda sono Silvia Dell'Amico e Danesi, anche entrambi uno responsabile della Progetto Carrara, presidente della Progetto Carrara e l'altro responsabile di Apoa Pharma. Quindi tutti i soci di aziende che gravitano intorno all'amministrazione comunale, che si sono ritrovati magicamente a percepire lauti stipendi all'interno appunto dell'amministrazione comunale o di società partecipate. In sostanza un attacco forte e chiaro di Musetti, rivolto ad un destinatario politico ben preciso, il Partito Democratico. Questa situazione si è sviluppata nell'amministrazione Conti, poi è venuta a ripetersi anche in questa amministrazione. Diciamo che dietro a tutto questo sembra apparire la volontà del Partito Democratico a piazzare i suoi uomini, soprattutto uomini di queste due aziende, nei posti strategici della città che sono poi i posti di comando dove si scelgono, dove si amministra il bene comune.